Dopo l'espulsione del Giresu, ovviamente è diventata un'altra partita e un'altra valutazione. Abbiamo fatto più di 30 tiri in porta. Prendo volentieri, di solito di soldo. Ci sta in queste partite a volte di perderle anche per quanto c'è la troppa voglia di fare gol. Abbiamo fatto l'errore poi di nervosirci per la continua e sistematica perdita di tempo degli avversari, che anche comprensibile, non ce l'ho col Giresu assolutamente. Anche ci sono un'irrore, dove il Giresu è sempre il gioco per la prima volta, delle gioco sticiamo nella situazione. Ma credo che le arbitri abbiano l'autorità per non permettere questo. Ci sono troppi momenti. Il gioco è fermo. Non si trova ritmo, non si trova continuità ed è una cosa che non c'è. Il mio è un consiglio propositivo, non certo distruttivo. Il primo tempo il portiere ha rinviato dal fondo almeno 20 volte, con perdite di tempo continui. 20 volte, contate il primo tempo. Se si conta 30 secondi per rinvio, fate voi il conto quanti minuti di tempo che non si gioca. Credo che il secondo tempo sia stato sulla stessa linea, ogni volta c'era un giocatore a terra si giocava dopo un minuto e questo si perde il ritmo. Ma questo è un discorso, ripeto, costruttivo e faccio una preghiera che possa migliorare la cosa per il movimento del calcio, della velocità del calcio turco. E questo è un discorso, anche i miei calciatori che devono imparare a non farsi nervosi quando succede, che poi diventa un limite, no? Aslında chiuso, perché, perché, perché hanno ne riceverso va a cercare il tempo, la velocità del tempo di ricever. o che è in malato